Eccoci, buonasera, il telegiornale parte dalla grande fibrillazione che c'è nella maggioranza di governo e con in campo alcuni dei big, Renzi, Zingaretti, sul tema di questa fase 2 all'insegna, in realtà, delle prese di posizione, come sappiamo, del Presidente del Consiglio, giudicate da alcuni troppo caute e nella comunicazione troppo personalistica, è quello che dice Renzi, che parla della libertà che non vale meno della salute e parla di rispetto della Costituzione, ciò vale sia per la forma che per la sostanza del nuovo decreto, quello in vigore da ieri mattina. Zingaretti fa da pacere e cerca di dire, non c'è violazione costituzionale, certo, da parte di Conte, il quale Conte fa osservare che i rischi sono ancora molto alti e questo lo dicono gli scienziati e non a caso arriva proprio oggi, viene diffuso un documento dei giorni scorsi dell'Istituto Superiore di Sanità, del Comitato Tecnico Scientifico, che fa rilevare come in assenza di cautela adeguata nella nuova fase il rischio di una nuova e più grave ondata di contagi. Ma vedremo anche che, è il caso di tornare a dire, se Atene piange Sparta non ride, perché l'opposizione si presenta a questa nuova fase in ordine sparso e come stiamo per vedere c'è addirittura una presa di distanza di Salvini dalla Meloni, quanto a Berlusconi espone una posizione, una linea molto molto diversa ormai da quella dei due alleati del centro-destra a favore dell'Europa, a favore del MES e per ricordare che semmai sono stati i partiti sovranisti del nord Europa a remare contro l'Italia. Vedremo però anche che ci sono i numeri, i numeri che sono anche oggi chiari nel dire che non c'è una discesa adeguata dei decessi, ma c'è per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive, quello che in qualche modo veniva previsto. Vedremo anche che il Presidente del Consiglio è stato questa mattina a Genova per il nuovo ponte che sostituisce il ponte Morandi, la costruzione a tempo di record si è conclusa e poi nel pomeriggio è stato in alcune delle zone della Lombardia, soprattutto, che sono state più colpite dall'epidemia. Ieri sera è già stato a Milano, Bergamo e Brescia. Ma vedremo anche, faremo in tempo a vedere anche altro, come in alcuni paesi stranieri la corsa verso il ritorno alla normalità, le fasi che portano alla normalità si sia molto rallentata, soprattutto in Francia, dove il Premier ha annunciato che fino a giugno non se ne parla proprio di ritorno a scuola degli studenti e simbolicamente ha dichiarato chiuso anche il campionato di calcio. E in Spagna Sanchez ha confermato che non si tornerà a scuola fino a settembre neanche nel paese iberico e che il ritorno alla normalità dopo quattro fasi viene fissato al 25 di giugno. Vedremo, intanto tra pochi secondi, non sono 30 secondi, sono un po' di più, i titoli. Polemiche e tensioni nella maggioranza per il decreto sulla fase 2, il provvedimento calpesta la Costituzione, ha detto Matteo Renzi che attacca Conte, non abbiamo tolto i poteri a Salvini per dargli un altro, la Zingaretti getta acqua sul fuoco e difende il Premier, non ha violato la carta e Conte spiega perché ha dovuto rallentare. Anche sul fronte opposto del centro-destra serpeggiano tensioni e spaccature dopo il flash mob di Fratelli d'Italia davanti al Palazzo Chigi per chiedere che il decreto del governo sia discusso in Parlamento a fondo di Salvini. I problemi non si risolvono andando in piazza per 15 minuti. Il leader della Lega attacca anche Berlusconi che aveva incolpato i paesi sovranisti del Nord Europa per i ritardi con cui Bruxelles ha agito in soccorso dell'Italia. Sulle decisioni del governo ha pesato un documento del Comitato Tecnico Scientifico che ha avvertito il Premier delle possibili conseguenze di un'immediata riapertura delle attività, compresi i parescuole dopo il 4 maggio. Per gli esperti in pochi giorni la curva del contagio rischiava di schizzare oltre il livello di guardia con un'impennata drammatica di nuovo dei malati in terapia intensiva. I dati della protezione civile confermano il trend in discesa dall'epidemia, continua la riduzione del numero di malati, in aumento invece i pazienti dimessi e i guariti. C'è però la nota negativa dei decessi che continuano ad essere troppi e sono saliti a 382 nelle ultime 24 ore. Conte oggi è andato prima a Genova per il varo del nuovo ponte sul Polcevara e poi a Lodi, primo epicentro in Italia dell'epidemia di Covid-19. Si riaccende lo scontro politico sul MES nel corso della presentazione del DEF in commissione e bilancio di Camera e Senato. Botta e risposta tra il leghista Borghi e il ministro Gualtieri è accusato di aver volutamente omesso di inserire nel documento i riferimenti all'uso dei fondi del MES. Non è ancora in discussione del primo ministro, non mi dia del bugiardo dice Borghi, è uno strumento ancora all'esame del Eurogruppo, la precisazione di Gualtieri. Altri paesi europei alle prese con la fase 2, rischio di un pericoloso passo falso. In Germania è tornato a salire a 1 e poi a 0,9 il differenziale, la percentuale sui contagi. Mentre in Francia il premier Filippe ha frenato sull'apertura delle scuole, se ne parla se mai a giugno e comunque ha dichiarato chiuso il campionato di calcio. In Spagna Sanchez-Vara, una tabella di marcia di quattro fasi che arriva alla normalità il 25 giugno. Eccoci, buonasera. Il telegiornale parte dalla fibrillazione che c'è nella maggioranza e coinvolge i suoi principali azionisti su questa fase 2 indicata da quel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non passa dal Parlamento e non è stato discusso dentro la compagine di governo e soprattutto secondo Renzi in qualche modo viola alcuni degli elementi fondamentali di libertà che sono nella Costituzione. Un dibattito quindi che si fa durissimo e sul quale per la verità il principale alleato di Conte, cioè Zingaretti, dice che non c'è stata alcuna violazione. Cosa è successo? Lo vediamo subito. Non vogliamo aprire la crisi in un momento così difficile, ma il governo non può calpestare ancora la Costituzione. Il decreto Conte sulla fase 2 scatena l'offensiva di Matteo Renzi che torna ad evocare il fantasma della crisi. Il leader d'Italia Viva, che da tempo preme per una vera riapertura, non solo critica duramente le misure decise nel DPCM illustrato domenica sera, non si rendono conto che in autunno ci sarà una carneficina di posti di lavoro, ma attacca soprattutto la forma. Il DPCM dice è uno scandalo costituzionale. Non è che ad agosto del 2019 abbiamo fatto ciò che abbiamo fatto dopo il papete per togliere i poteri a uno e per darli un anno dopo a un altro. Sulla Costituzione non si scherza e il Presidente del Consiglio deve smetterla con questo atteggiamento paternalista in cui fa la diretta Facebook. Dice attenzione, dice consentiamo. Non è lui che consente l'esercizio delle libertà democratiche in questo Paese. Continuare a intervenire così sulle libertà costituzionali è sbagliato ed è un pericoloso precedente. Non può esistere uno Stato etico che ti fa autocertificare se la tua relazione affettiva è stabile o saltuaria, aggiunge. La replica del Premier è secca. Non ho letto cosa ha detto Renzi. La libertà di opinioni a me tocca decidere, a me con tutta responsabilità del caso. Il rischio di un contagio di ritorno o comunque di una riesplosione di focolai che possano riesplodere per quanto riguarda questa epidemia è molto concreto. È molto concreto la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure ma anche con prudenza. Non sa cosa ha detto Renzi? Conte stia attento, rischia brutte sorprese nei tabelloni in aula l'avvertimento degli uomini vicini a Renzi che nella sua battaglia si appella agli ex compagni di partito. Trasformiamo il DPCM in un decreto e portiamolo in Parlamento. Ma Zingaretti non segue l'ex segretario su questo terreno, Conte dice. Con il DPCM non ha violato la Costituzione. Quello di cui c'è, io questo sì lo avverto, un grande bisogno è uno scatto in avanti in un clima di concordio e unità nell'affrontare i problemi all'interno del paese riguardando al futuro perché questo non significa non avere idee diverse. L'appello all'unità del segretario PD mette la sordina alle critiche da lui stesso mosse a Conte per alcune riaperture giudicate troppo ritardate. La data del primo giugno mi pare molto lontana, dice Zingaretti. Mi permetto di suggerire al governo di affidarsi alle curve epidemiche per riavviare le attività di alcune categorie. Come ristoranti, bar o in generale il commercio. La linea del PD, sostenuta dal ministro degli affari regionali Boccia, è di aperture differenziate dal 18 maggio a seconda dell'evoluzione dei contagi nelle varie regioni. Confermando una linea della prudenza ufficialmente sposata in pieno dai 5 stelle. Ci sono rischi sanitari alti. Se siamo imprudenti adesso, in estate rientriamo in lockdown. Le parole del ministro degli esteri Di Maio. Fuori dalla contesa politica, il richiamo a tutti della Presidente della Consulta, Marta Cartaglia. La Costituzione offre la bussola anche in tempi di crisi. Non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali. Ci sono da aggiungere due passaggi. Il primo, che poco fa il capo dei senatori del PD, Marcucci, ha detto che credo che Conte abbia sbagliato sul cronoprogramma della fase 2. La riapertura di bar e ristoranti il primo giugno temo sia troppo lontana. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri scade il 17 maggio. Lasciamoci lo spazio per decidere di volta in volta se ci sono margini per aprire prima o per testare le aperture nelle regioni dove la curva epidemiologica è più rassicurante. Queste le parole di Marcucci e c'è da dire anche che su uno dei temi che da subito hanno suscitato polemica del discorso televisivo di Conte, del relativo decreto, cioè il perdurante di vieto di messe. C'è a quanto pare un ok all'ipotesi di messe all'aperto dall'11 di maggio, dal lunedì successivo al 4 maggio. Ci sarebbe la possibilità di far ripartire tutte le cerimonie entro probabilmente la domenica che è il 17 maggio ma già dall'11 di svolgere messe in luoghi aperti, ovviamente col distanziamento sociale. Ma perché c'è stata la frenata di Conte, quell'annuncio di domenica sera lungo e senza i contenuti sperati da molti? Oggi l'ha fatto capire Conte ma sono uscite anche, forse non casualmente proprio oggi, pezze d'appoggio, documenti degli scienziati che dicono fate molta attenzione, ci vuole molta cautela. Se il tasso di contagiosità fosse anche di poco superiore all'1, l'impatto sul sistema sanitario sarebbe notevole. È evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto. Il Comitato Tecnico Scientifico lo mette nero su bianco nella pagina delle raccomandazioni che chiude il documento di 22 pagine nel quale gli esperti hanno tracciato più di 90 scenari evidenziando i rischi collegati alla ripartenza delle attività, tenendo conto dei contatti sociali, dell'età e dei diversi luoghi di aggregazione. Una valutazione complessiva sulle politiche di riapertura basata su modelli previsionali, senza caratteristiche di segretezza precisa l'Istituto Superiore di Sanità. Il report fatto trapelare oggi ha pesato sulla scelta del Governo di riaprire l'attività in modo graduale e cauto. Nel peggiore degli scenari possibili, ovvero la riapertura di tutti i settori, incluse le scuole, l'indice di contagio tornerebbe a posizionarsi sopra il valore 2 e le terapie intensive, scritto, tornerebbero sature dopo appena un mese. Il rischio è di avere la necessità di 151 mila posti di terapia intensiva già a giugno, con un numero di ricoveri superiori a 430 mila. E ancora, la sola riapertura delle scuole, senza una ripartenza dei settori produttivi, porterebbe ad uno sforamento rispetto ai posti letto attualmente disponibili in terapia intensiva a livello nazionale. La riapertura dei settori edile e manufatturiero avrebbero un impatto minimale, non così invece per quanto riguarda il commercio e la ristorazione, la cui apertura potrebbe potenzialmente innescare nuovi focolai. C'è poi tutto un capitolo che riguarda l'età, facendo restare a casa di over 50, limitando gli spostamenti delle persone con più di 60 anni d'età, il tasso di contagio tornerebbe a risalire. Nel documento si esprime qualche incertezza sull'efficacia delle mascherine per la popolazione, dovuta ad una limitata evidenza scientifica, sebbene siano ampiamente consigliate. Ultimo aspetto affrontato dal Comitato Tecnico Scientifico, il comportamento delle persone sui trasporti pubblici, una variabile ritenuta non misurabile. Questo è un po' il quadro complessivo che fa capire anche alcune motivazioni di Conte, ma anche le ragioni dei suoi alleati più impazienti. E dall'opposizione però succede un fatto nuovo, che c'è nello stesso giorno un clima di non concordia tra Salvini e Meloni e tra i due e Berlusconi. Nei giorni del coronavirus la piazza divide il centrodestra. Non più tardi di stamattina Giorgia Meloni in una intervista alla stampa rispondeva così a Matteo Salvini che invocava lo strappo. Voglio essere sincera, finché dura il contagio, andare in piazza significherebbe mettere in pericolo chi partecipa alla protesta. Ed eccola la stessa Meloni qualche ora dopo, questo pomeriggio, in piazza davanti Palazzo Chigi a manifestare con deputati, senatori, consiglieri regionali dei Fratelli d'Italia per dire che non c'è nessuna ripartenza e chiedere che la fase 2, quella illustrata l'altra sera da Conte in diretta tv, sia discussa e votata in Parlamento. Gli innocenti non possono andare in chiesa a pregare, non possono fare i funerali con più di 15 persone, non possono aprire il loro negozio anche se mantengono il distanziamento sociale, non possono scendere in piazza neanche a manifestare il loro dissenso. È la ragione per la quale siamo qui oggi per dare voce a queste persone che hanno ancora diritti fondamentali, che non hanno fatto niente di male. C'è il distanziamento sociale, certo, e ci sono le mascherine, ma la piazza è pur sempre la piazza. E l'idea di questa piazza non piace all'alleato Salvini, proprio lui che aveva accarezzato l'idea di violare il lockdown e che ora parla così. Come si risolvono i problemi? Ovviamente non andando a manifestare per un quarto d'ora in piazza, lo dico alla politica, massimo rispetto invece per i cittadini che si stanno organizzando ovunque, da nord a sud. Servirà a stare giorno e notte in Parlamento? Staremo giorno e notte in Parlamento. Riapriamo i negozi da domani, dice Salvini. Poi annuncia la presentazione, il primo maggio, di un grande piano di ricostruzione nazionale concreto, pieno, libero, perché non ne possiamo più. Parla così il rappresentante italiano di quel sovranismo europeo che, secondo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, terzo lato dell'alleanza di centrodestra, è responsabile di molti dei mali che affliggono il nostro continente. Un pretesto per allontanare il nostro paese dall'Unione Europea, aggiunge Berlusconi, e impedire loro di aiutarci. Parole pesanti che non sviluppano la coesione. Parole alle quali Salvini risponde indirettamente, ma con altrettanta durezza. Leggo che qualcuno se la prende con i sovranisti, roba da scherzi a parte. Noi siamo perché la sovranità torni ad appartenere al popolo. Berlusconi precisa che Forza Italia è e resta all'opposizione, ma che si tratta di un'opposizione seria, che in un momento di grave emergenza si stringe attorno alle istituzioni. L'avvertimento agli alleati, o ex alleati, è lanciato. Un quadro molto frammentato, quindi, come abbiamo visto. Ma poi c'è la realtà dei numeri. E cosa dice questa realtà oggi? Nel giorno in cui l'Italia supera i 200 mila contagiati, si registra un piccolo rimbalzo per i nuovi casi, come accade in genere ogni martedì, a causa dell'analisi di una maggiore quantità di tamponi. Discorso diverso per i decessi, che sono tornati a salire negli ultimi due giorni, ma all'interno di un trend di discesa. Il dato nazionale ci dice che purtroppo il Covid-19 ha ucciso altre 382 persone, 49 più di ieri, 126 in Lombardia. Si continua a morire tanto anche in Veneto, 64, Piemonte, 58, Emilia-Romagna, 41. Quattro le regioni senza vittime oggi, Umbria, Basilicata, Molise e Sardegna. Lo diciamo sempre, che dietro ai numeri ci sono vite, persone e storie spazzate via. Ma se guardiamo la media mobile settimanale, quello dell'Italia è il dato migliore dal 19 marzo, con 387 decessi. Molise e Basilicata da giorni a zero. Calano ancora i malati, oggi 608, mentre risalgono, dicevamo, i nuovi casi, 2.091, con un incremento che si riporta appena sopra l'1%. Ma vanno considerati i tamponi, 25.000 più di ieri, con una relazione di un positivo per ogni 27,4 test e il 3,65% di contagiati, dato tra i migliori. Meno confortanti i numeri della Lombardia, 869 nuovi casi, con un tasso di aumento dell'1,18%, mentre ieri era sotto l'unità, con appena 3.500 tamponi in più. Nel resto d'Italia, se togliamo Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Veneto, tutte le regioni sono abbondantemente sotto i 100 casi, a partire dal Lazio con 75, la Toscana con 52, poi addirittura le altre meno di 50, con la Basilicata per il secondo giorno consecutivo a zero nuovi contagi. Se vogliamo non accontentarci del dato quotidiano, la discesa è confermata dalla media mobile settimanale, la migliore in Italia dal 15 marzo, con 2.507 nuovi casi. E nel grafico si può notare l'incidenza delle regioni del nord in difficoltà e con dati che invitano alla cautela, mentre il centro-sud vive tutt'altra situazione. Prosegue invece spedito il calo della pressione sugli ospedali. Oggi per la prima volta siamo scesi sotto i 20.000 ricoveri. Nelle strutture del servizio sanitario ci sono 19.723 persone, con una diminuzione di 630 ingressi e 93 terapie intensive. Risalgono in modo consistente anche i dimessi e i guariti, 2.317. Stesso trend anche nelle regioni del nord, meno ricoveri e terapie intensive, in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. In Lombardia oggi è arrivato, c'era già ieri per la verità, a Milano, poi a Bergamo e a Brescia, oggi ha visitato le altre zone più colpite della Lombardia dell'epidemia. E non è stato solo in Lombardia. Il Presidente del Consiglio Conte che peraltro questa mattina era a visionare quella che non è ancora l'apertura, non è ancora l'inaugurazione. Lì ci vorranno ancora tre mesi e allora sarà davvero un momento di ritrovata festa al ponte di Genova. La ferita suturata di Genova misura 1.067 metri e ricollega le due sponde della Val Polcevera, il Levante al Ponente, un anno e otto mesi dopo il crollo del ponte Morandi. Grazie a Buccia, per Sena e per San Giorgio. Grazie a voi, per Genova e per San Giorgio, dice il Sindaco Bucci in dialetto, rivolgendosi a chi continua a lavorare nel cantiere del nuovo ponte di Genova. Una cicatrice che rimarrà dolente perché ci sono 43 vittime, ricorda il Premier Conte, che arriva in città per la cerimonia carica di emozioni, quando l'ultima campata viene insata, gli ultimi metri della struttura ideata e regalata da Renzo Piano che finalmente unisce e ricollega la città. Conte definisce questo cantiere il simbolo per tutta l'Italia che sa rialzarsi e non si fa battere dalle tragedie. L'impegno è ripartire insieme il più grande atto d'amore. Da Genova alla Lombardia il Premier arriva a Lodi per continuare la visita nella regione così colpita con un'epidemia ancora attiva. In quella zona dove tutto è partito lo accoglie il prefetto da poco guarito dal Covid-19. Il rischio di un contagio di ritorno o comunque di una riesplosione di focolai che possano riesplodere per quanto riguarda questa epidemia è molto concreto. È molto concreto la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure ma anche con prudenza. Incontro il personale sanitario degli ospedali da subito in prima linea, poi parla a lungo con i dieci sindaci dell'unica zona rossa istituita in Lombardia. Gli chiedono di non dimenticarsi del sacrificio di questo territorio e gli consegnano a mano quella lettera lui inviata a marzo e rimasta inascoltata dove proponevano soluzioni economiche per alleggerire, dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese di questo territorio isolato. Ancora nessuna risposta da Conte, ci aspettavamo di più, dice il sindaco di Codogno. A due mesi dall'emergenza che cosa resta? Come se fosse scoppiata una bomba atomica, chiaramente oggi c'è quella consapevolezza che il mondo è cambiato ma dall'altra parte quella volontà di voler ripartire perché la paura di non riuscire più a ripartire rischia di trasformarsi in ansia ed in altre problematiche anche sociali che sicuramente vogliamo evitare. Piacenza e Cremona, Conte segue la strada che aveva preso il contagio, tornerà a Roma con le richieste di chi sta e si sente ancora in prima linea. Questa è la situazione ma è ovvio che ci vorrà per la ricostruzione, per portare ristoro soprattutto a quelle terre che sono state così colpite un cospicuo investimento economico. E' quello che chiediamo all'Europa e la querelle sulle misure, sugli strumenti, sul MES, il recovery fund, è ben noto a tutti. Così come è ben nota la polemica politica interna che passa anche da questo. E se ne ha avuto una conferma oggi nelle commissioni di Camera e Senato che insieme dovevano ascoltare il Ministro dell'Economia Gualtieri. Vediamo cosa è successo. Il Ministro dell'Economia si è presentato stamane in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato con in mano il documento di Economia e Finanza, il DEF, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri. Gualtieri ha confermato le misure che dovrebbero essere inserite nella maxi manovra da 155 miliardi per venire incontro a imprese e cittadini, proroga della cassa integrazione, bonus che passa da 600-800 euro per lavoratori autonomi, rinvio di sugar e plastic tax, sospensione di alcuni adempimenti fiscali. Ma è ancora una volta sul MES che si riaccende la miccia dello scontro mai sopito con la Lega. E il Presidente della Commissione, il leghista Borghi, che incalza il Ministro, dov'è? Chiede, nel testo del DEF il meccanismo europeo di stabilità non viene citato, non c'è, forse perché qualcuno all'interno della sua maggioranza le ha detto meno ne scriviamo, meglio è? Secca la risposta di Gualtieri, non nuovo a scintille colleghista, fautore dei minibot. Borghi ignora che non è stato introdotto ancora nessuno strumento del MES e se ciò avverrà il Governo si confronterà con il Parlamento. Basta che non dica che mentiamo, perché guardi che la dichiarazione di Michel e la dichiarazione soprattutto dell'Eurogruppo che ha finito è qua e ce l'ho scritta davanti, guardi qua guardi qua che se io leggo, scusi perché dato che lei mi ha dato del bugiardo, dato che lei mi ha dato del bugiardo, allora leggiamo assieme, non si è agreed to establish pandemic crisis support col MES, per cui dato che non mi dia del bugiardo perché sono le cose che lei approva che la smentiscono. Esiste il passaggio in cui si dice che bisogna stabilire una linea senza condizioni, altrimenti esisterebbero solo le linee con condizioni, poi c'è il passaggio in cui queste linee si stabiliscono e c'è poi il passaggio in cui gli stati membri valutando le condizioni di questi strumenti e della loro personalizzazione decidono se farvi ricorso. Sono tre cose diverse che credo che voi, diciamo in modo a mio giudizio strumentale, ma è la strumentalità e l'escita nella politica invece appositamente confondete. E appunto ora la palla a Bruxelles per definire i dettagli tecnici di questa nuova linea di credito, cioè quali spese potrà finanziare e quale sarà la lunghezza dei prestiti. Il prossimo Eurogruppo 8 maggio. E secondo il dato, quel contatore ufficiale della Johns Hopkins University negli Stati Uniti si sarebbe passato il milionesimo caso di coronavirus e tra l'altro il numero dei morti è ormai superiore a 57 mila negli Stati Uniti. Un numero altissimo, è il paese con più vittime al mondo, non va dimenticato che ha più di cinque volte gli abitanti dell'Italia e quindi questo è quello che sta succedendo negli Stati Uniti, non è dissimile, anzi se è possibile, se finirà così sarà in rapporto meno duro di quello che abbiamo passato noi. Noi e altri paesi europei, la Spagna può dire la stessa cosa, ha un po' meno vittime dell'Italia ma ha una popolazione che è di un quinto inferiore a quella del nostro paese. A proposito, proprio in Spagna, in Francia e in Germania oggi ci sono convergenti novità che fanno capire come la situazione in questi paesi, tenti di andare dal punto di vista tecnico alla normalità, ma non ne siamo affatto vicini. E in particolare sul capitolo del riavvio dell'anno scolastico che in Francia va avanti da giorni di battito tra pro e contro l'avvio della cosiddetta fase 2, il Premier Filippo ha finalmente portato in Parlamento il piano per il cosiddetto deconfinamento basato su un compromesso. Asili e scuole elementari so base volontaria ripartiranno dall'11 maggio, per le superiori ci vorranno invece i primi di giugno. Anche i negozi riapriranno l'11 del mese prossimo ma non bar e ristoranti, gli assembramenti sono liberi fino ad un massimo di 10 persone, i campionati sportivi sono definitivamente conclusi e fino a settembre sono vietati tutti gli eventi con più di 5.000 partecipanti, luoghi di culto aperti ma niente cerimonie o funzioni. Anche in Spagna nonostante il calo costante dei dati dell'effetto virus il piano per la fase 2 presentato dal Premier Sanchez segue la via prudente e riapertura asimmetrica e la parola d'ordine cioè modalità diverse a seconda dei territori ma in ogni caso i primi allentamenti partiranno lunedì prossimo 4 le tappe progressive per le riaperture da qui fino a fine giugno. 160.000 casi di contagio e 6.000 decessi, i numeri dell'impatto Covid-19 in Germania restano in qualche modo esempio virtuoso per l'Europa eppure il percorso tedesco verso la normalità inaspettatamente frena il Robert Koch Institute di Berlino che monitora in tempo reale l'epidemia, oggi ha allertato il governo il tasso di contagio cioè il numero di persone infettate dai pazienti dopo due settimane di discesa è tornato nelle ultime 48 ore a sfiorare la soglia di guardia di 0,9 quando uno vuol dire che ogni persona ammalata ne contagia un'altra. Il riavvio di piccoli negozi e scuole complice il bel tempo degli ultimi giorni avrebbe allentato la disciplina della popolazione portando molta più gente nelle strade anche la Merkel spinge per una maggiore cautela nei piani di rientro dalle misure restrittive e i governi regionali chiedono al contrario un'accelerazione verso il ripristino dell'ordinarietà capofila della dissidenza verso il lockdown e il presidente del Parlamento ed ex ministro delle finanze per Wolfgang Schäuble è sbagliato subordinare tutto alla salvaguardia della vita umana perché sostiene il valore principale della Costituzione tedesca e la dignità delle persone e non la sopravvivenza ad ogni costo ma è trasversale dalla sinistra ai nazionalisti il fronte di chi chiede di non lasciare le decisioni interamente agli scienziati valutando invece le implicazioni economiche, sociali e psicologiche provocate dalle restrizioni anti-Covid-19. Ci fermiamo tra poco Fine le borse Milano anche oggi è andata molto bene vediamo insieme la chiusura più 1,71% l'ultimo indice Fuzzimib con lo spread che si attesta a 219 punti base un punto meno di ieri in questo momento contrastata Wall Street Dow Jones più 0,48 Nasdaq meno 0,41 è tutto Gruber Flores ci vediamo domani sera buonasera